Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Antonella Clerici è una conduttrice televisiva italiana. Dopo aver esordito negli anni 80 in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando il RAI e conducendo negli anni 90 diversi programmi sportivi. Nonostante è sempre mezzogiorno risulta ad ora un programma seguitissimo, e con uno zoccolo duro di telespettatori, non è certamente l'unico cooking show in tv attualmente in onda. Esiste, possiamo dire, una fitta concorrenza per quanto riguarda in primis Master Chef Italia, che riprenderà tra breve, ma non solamente. Ora in tv troviamo anche le, come vengono scherzosamente dette dai telespettatori, due benedette, ovvero la Rossi, che ora è impegnata sul Real Time con Ricette d'Italia, insieme alla sua omonima, ovvero la Parodi, con un altro reality dal titolo Baccaf Italia. Proprio qui sembra sia avvenuto il furto.